Buonasera a tutti e a tutti, sono Franco Amerini di Rizzoli Education, vi do il benvenuto a questo incontro con il professor Roberto Balzani. Buonasera. Eccolo qui, buonasera Roberto. Il professor Balzani è autore di una importante novità, di storia, un manuale di storia per il triennio delle scuole superiori che esce quest'anno, è uscito da Rizzoli Education e si intitola Come siamo? La storia ci racconta. Immagino che chi è presente a questo webinar abbia già avuto modo di vedere il professor Roberto Balzani, che in varie occasioni ha presentato il libro, ci ha parlato di varie cose, ma in particolare quello di oggi è l'ultimo di una serie di cinque incontri che, come avete visto dal nostro titolo di copertina, riguardano il concetto di rivoluzioni fatte, subite o vissute. Questi incontri Roberto li ha iniziati addirittura a novembre, diciamo passando a novembre, attraverso un incontro dedicato alle rivoluzioni nazionali, alle rivoluzioni nazionali in America e in Francia, ad un aspetto in dicembre sociale con la nascita della società aperta, poi in febbraio un incontro dedicato al risorgimento italiano, a marzo un tema ancora diverso, un modo ancora diverso di intendere delle rivoluzioni perché si è parlato di piano Marshall e dei cosiddetti 30 gloriosi dell'Occidente e infine oggi. Oggi affrontiamo un aspetto ancora diverso che è quello che riguarda la rivoluzione digitale e la percezione sociale del tempo e dello spazio. Io ti cedo senz'altro la parola, non ti rubo altro tempo, ricordo a tutti naturalmente che potete inserire nella chat le vostre domande. Buona visione e grazie. Buonasera a tutti e grazie naturalmente per la vostra partecipazione. Oggi si conclude questo piccolo ciclo nel corso del quale ho cercato di fornire qualche strumento che potesse connettere quella che è la narrazione manualistica, quella che ogni insegnante deve fare durante la sua attività annuale con alcuni temi, temi più generali, temi che possono incidere anche sull'educazione civica o su dei percorsi trasversali che così spesso poi vengono proposti o vengono richiesti ai professori di essere proposti agli studenti. In questo caso vorrei chiudere il ciclo parlando della rivoluzione digitale, della percezione sociale del tempo e dello spazio. Questo è un tema più di carattere tecnologico, ma non solo, di cui mi occuperò, che riguarda soprattutto la seconda parte del Novecento, periodo molto più recente vicino a noi, che credo che però possa rientrare anche narrativamente all'interno di una serie di lezioni che si possono anche immaginare molto più spostate sul presente, sugli ultimi, sul periodo post bellico. Questo almeno è il mio augurio, possiate trovare degli spunti e poi naturalmente sono disponibili per le domande che potete e vorrete farmi. Parto da un presupposto, perché ho inserito questo tema in un ciclo sulle rivoluzioni. Beh, innanzitutto perché le rivoluzioni tecnologiche si chiamano così, perché quando avviengono non cambiano solo le modalità produttive e quindi i sistemi di costruzione del valore o anche appunto di produzione di beni e servizi, ma anche la società, profondamente. Incidono su delle dinamiche più ampie e la rivoluzione digitale non fa eccezione naturalmente e parte dalla sfera dell'informazione, come vedremo, e della comunicazione per influire sulla mobilità, sulle scelte individuali, sulle relazioni, sui modi di percepire addirittura alla storia e infatti questo poi è l'argomento finale che in qualche modo consente di tenere questo ciclo, in qualche modo di compattarlo in una sua logica. Quindi descrive anche dei processi di cambiamento più profondi. Però per iniziarlo e per non iniziarlo subito parlando del presente volevo prenderla, non dico un po' alla lontana, ma cercando di capire qual è una delle radici, non da sola naturalmente, una delle radici del percorso che vorrei fare. Una di queste radici risale alla Seconda Guerra Mondiale e al tentativo da parte della Germania di Hitler di studiare dei mezzi, delle armi sofisticate, per riuscire a chiudere la guerra. Quindi il mito dell'arma finale, dell'arma decisiva che può risolvere con la sua apparizione, può risolvere davvero il conflitto. Come sappiamo questo mito, o meglio questo tentativo di ricerca, naturalmente non è solo della parte tedesca, ma riguarda anche gli americani che ci arrivano poi per primi con la bomba atomica, ma nel caso di Hitler che ha verso l'energia nucleare qualche perplessità, il percorso invece va in un'altra direzione. Adesso vedremo perché è per noi importante. Va in un'altra direzione perché soprattutto con un programma di bombe speciali aviotrasportate in un primo tempo e poi con autopropulsori missilistici, la Germania acquista una nuova tecnologia che è quella appunto missilistica, che soprattutto nel caso delle V2 che sono trasportate da un missile, che colpiscono Londra in particolare nel 1944, danno le prime prove di sé. Perché questo antecedente è importante, come vedremo anche per la nostra storia? È importante perché il giovane ingegnere che si chiama Werner von Braun, che naturalmente collabora ai progetti delle V2, diventa poi, viene portato, sottratto alla Germania nazista, viene portato negli Stati Uniti e diventerà poi il progettista dei grandi vettori missilistici della corsa allo spazio a partire dalla fine degli anni 50. e quindi il collegamento è più che diretto. Ma la cosa sulla quale volevo farvi riflettere è che contestualmente, contestualmente con questi tentativi di dominare lo spazio, si afferma, stiamo parlando del 1943, un'idea anche geopolitica, che è quella fatta propria dal presidente Roosevelt, con questa teoria monosferica, con una visione azimutale del pianeta, è una piantina questa che viene diffusa a partire dal 1943 e che deve comunicare agli americani l'idea che ora, attraverso non soltanto grandi aerei con una capacità di volo molto ampia, ma anche attraverso poi sistemi diversi, come appunto i missili, si può immaginare il mondo come un tutt'uno. Non ci sono più i due emisferi, come nella famosa carta di Mercatore, i due emisferi, con l'emisfero americano diviso da quello euro-asiatico-africano, per cui gli americani si ritenevano in qualche modo autonomi e in qualche modo anche al sicuro, perché c'era un atlantico di mezzo che li separava dall'altro grande blocco continentale. Questa teoria emisferica viene meno con l'età dell'aria, quando i percorsi di potere e di dominio militare toccano l'aria, interrompono questa divisione spaziale costituita dall'acqua e ricompongono quindi l'unità del mondo. E per farla percepire, all'epoca del presidente Roosevelt, si afferma questa pianta, queste vedete, one world, one war, è l'idea che la guerra tiene insieme tutto il mondo. Tutto il mondo, tant'è vero, che parte da una visione azimutale dal polo. Partendo da questa visione si capisce che la distanza fra gli Stati Uniti e l'Europa e la Russia non è poi così tanta e che quindi gli Stati Uniti sono direttamente coinvolti nel conflitto, non possono pensare di restarne immuni. Naturalmente si tratta di una piantina che ha un suo successo in quegli anni, poi dopo la guerra fredda tende a scomparire, si ritrova ancora, lo segnalo per gli appassionati del genere, nella bandiera delle Nazioni Unite che non a caso risale proprio ai primissimi anni dopo la seconda guerra mondiale. Lì, nel simbolo dell'ONU, c'è appunto la teoria, la rappresentazione fisica di questa pianta azimutale che dà il senso monosferico, cioè l'idea che il globo ormai, tal momento che la competizione avviene nello spazio, poi in questo periodo si parla di spazio per trasferire soprattutto degli elementi offensivi, poi vedremo che lo spazio sembra anche ad altro, ecco proprio il dominio dello spazio rende di fatto il mondo unito, cioè c'è uno spazio che non è più, non ci sono più luoghi nei quali gli individui possono ritenersi al sicuro, se vogliamo, sotto un certo profilo. Tutti siamo all'interno dello stesso, immersi all'interno dello stesso elemento, l'aria che ci avvolge. Questo è un aspetto molto importante per quello che andremo a dire. L'idea che lo spazio sia un vettore attraverso il quale passa di tutto, compresi impulsi, compresa anche energia, è qualcosa di estremamente importante e soprattutto che ha cambiato la vita e la percezione del genere umano dal 1945 in poi. È un antecedente che però volevo mettere in evidenza perché se non partiamo da qui, cioè da questa seconda guerra mondiale, non capiamo il salto culturale che è stato compiuto. Naturalmente questo dà vita poi dopo la seconda guerra mondiale a tutto un filone, anche culturale e popolare, i missili che devono andare a scoprire i pianeti, i marziani, i luoghi esterni, perché chiaramente se lo spazio è qualcosa di contendibile ma anche qualcosa di dominabile, ci si può chiedere cosa c'è oltre, cosa c'è oltre la Terra, la questione dei pianeti, quindi di fatto si tratta di una estensione dell'immaginario. Noi abbiamo tutta un'enorme produzione, soprattutto per il periodo post bellica, che è tutta incentrata su un mondo da scoprire, che non è più quello del pianeta, che ormai è stato integralmente scoperto, ma un mondo a quel punto extraplanetario che sta nello spazio, nello spazio più remoto. E naturalmente sotto questo profilo ci sono due modi di concepire questo spazio. Uno è naturalmente quello dei missili balistici intercontinentali, perché non dobbiamo dimenticare che i vettori non servono solo a trasferire le navicelle spaziali nello spazio, ma servono anche a trasportare delle armi di istruzione di massa. Questi due processi sono paralleli, quindi abbiamo i missili che portano testate, testate nucleari naturalmente di vario potenziale con una gittata altrettanto varia e questo è un filone, filone che comincia subito dopo la seconda guerra mondiale e poi si sviluppa nel corso degli anni 60 e degli anni 70, naturalmente fino a che non cominciano i trattati di non proliferazione e l'altro lato è naturalmente la corsa allo spazio, la corsa allo spazio nel senso di corsa al dominio se non altro visuale, visivo di ciò che c'è al di fuori della Terra e qui la corsa vede le due superpotenze impegnate direttamente. Come sapete nel 1957 arrivano prima i russi con lo Sputnik, poi mandando Yuri Gagarin primo uomo allo spazio nel 1961 e qui si tratta di un vantaggio notevolissimo al quale gli americani poi reagiscono con un enorme investimento, poi vedremo anche perché, un enorme investimento in questa corsa. Quindi da questo prima c'era stato lo Sputnik, poi la cagnetta Laika e poi Yuri Gagarin in cui vedete riuniti questi elementi della corsa allo spazio nel momento magico per l'Unione Sovietica del suo primato, un primato che non dura molti anni ma che è importantissimo dal punto di vista di questi passaggi tecnologici. Gli Stati Uniti reagiscono, qui c'è il famoso discorso tenuto alla Rice University, Houston, da John Fitzgerald Kennedy, che racconta lo sforzo economico e tecnologico che gli Stati Uniti stanno facendo per recuperare questo terreno e gli dice abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche in altre imprese non perché sono semplici ma perché sono ardite, perché questo obiettivo ci permetterà di organizzare e di mettere alla prova il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità perché accettiamo di buon grado questa sfida, non abbiamo intenzione di rimandarla e siamo determinate a vincerla insieme a tutte le altre. Il budget è pari attualmente a 5.400 milioni di dollari l'anno, una somma enorme, benché minore di quanto spendiamo ogni anno in sigari e sigarette, le spese per lo spazio del resto sono destinate a crescere ancora passando dai 40 centesimi per persona alla settimana oltre 50 centesimi alla settimana per ogni uomo, donna e bambino degli Stati Uniti. Abbiamo infatti deciso di considerare questo programma come una grande priorità nazionale eccetera eccetera, anche perché dice non sappiamo esattamente che cosa ci aspetterà ma sappiamo che questa è una grande sfida che può sostanzialmente cambiare la vita del nostro paese e dell'umanità. Ora la prima cosa che mi viene in mente è che pensare di fare un discorso di questo tipo oggi sarebbe quasi improponibile per qualunque capo di Stato anche di una superpotenza. C'è dietro chiaramente una visione ottimistica della società che soltanto l'Occidente nei 30 anni gloriosi del poderoso sviluppo economico poteva immaginare. Oggi un discorso di questo tipo è davvero molto lontano da quella che è il nostro contesto. Eppure questo discorso straordinario, soprattutto dal punto di vista rettorico, naturalmente ci dice, ci consegna anche la potenza costruttiva di una politica, una politica visionaria che a questo punto decide non solo di competere con l'Unione Sovietica ma decide di rendere questo elemento spaziale uno degli elementi strategici della vita e dello sviluppo della nazione e poi naturalmente per diventare la guida del pianeta proprio attraverso il controllo dello spazio. Quindi stiamo parlando di un passaggio decisamente fondamentale. Ma perché? Quindi c'è naturalmente la corsa alla Luna che viene vinta dagli americani nel 1969, questa è la rivincita degli americani a distanza di qualche anno dalla missione di Yuri Gagarin che segna un passaggio fondamentale, ma la cosa che volevo segnalarvi e che secondo me è molto importante è che contestualmente all'inizio della corsa allo spazio c'è anche subito l'uso, la tecnologia che viene portata nello spazio per degli effetti, per dei ritorni sulla vita e sulle comunicazioni degli esseri umani. Ed è il Laboratorio Bell che mandano il Telstar che è il primo satellite per le comunicazioni che viene mandato nello spazio nel 1962. È importantissimo perché col Telstar incominciano le trasmissioni in mondo visione, quelle trasmissioni televisive in mondo visione che poi diventano la normalità per i cittadini degli anni 70 soprattutto. e questo è importantissimo perché le telecomunicazioni potremmo dire cominciano di pari passo con la corsa allo spazio. Quindi vedete come la corsa allo spazio non sia semplicemente il punto diciamo un punto che riguarda l'aspetto militare, quindi il controllo degli arsenali, cioè il potenziamento degli arsenali missilistici per una specie di grande competizione USA-URSS, c'è naturalmente la questione della corsa alla luna diciamo come grande obiettivo politico dei due paesi, ma subito dietro gli americani hanno la componente delle telecomunicazioni che direi diventerà poi la componente più importante negli anni a seguire perché di questi enormi investimenti quelli delle telecomunicazioni avranno una espansione e un successo clamoroso. Volevo farvi anche vedere questa cosa un po' buffa che è il tristar degli italiani, cioè in una visione un po' più diciamolo pure di paese di seconda linea da questo punto di vista. Vedete il tristar dei ragazzi italiani è una specie di giochino che si mette nella testa con questa, alla fine con un'elica, questa è un po' la riduzione, l'interpretazione per i bambini dell'epoca, per i bambini che andavano a scuola all'epoca, di questa visione dell'elidisco del star che imita nella parola, riprende il tema delle telecomunicazioni. E qui andiamo più vicino all'argomento, ci avviciniamo all'argomento invece diciamo più recente perché da un lato la NASA ha bisogno di trasferire subito tecnologia e quindi vediamo come la ricerca tecnologica nelle telecomunicazioni parta subito, dall'altra parte il grande sforzo che fa la NASA, cioè l'agenzia per lo spazio che viene costituita proprio in quegli anni, è quello di investire nella informatica per l'elaborazione delle enormi quantità di dati che servono per poi inviare gli uomini nello spazio. E da questo punto di vista c'è l'investimento nella prima informatica che comincia proprio a ridosso di questa gara. Questo è importantissimo perché ci dice un dato, ci racconta un dato importante, un dato decisivo, e cioè che le grandi trasformazioni tecnologiche del nostro secolo, degli ultimi 70-100 anni, ma anche quelle precedenti, poi in buona parte anche dell'Ottocento, sono legate a degli investimenti, dei fortissimi investimenti statali, che consentono una disseminazione poi a livello di impresa, di trasferimento a livello di impresa, di impulsi tecnologici che poi seguono una strada di mercato propria. Allora, così come le telecomunicazioni sono quello che potremmo dire un sottoprodotto della corsa allo spazio, altrettanto si può dire per il grande settore degli elaboratori, dei grandi computer, che sono per la prima volta, in una prima fase, messi a disposizione delle grandi agenzie nazionali che si devono occupare di vincere la corsa con l'URSS, l'IBM viene subito naturalmente coinvolta in questa operazione e che poi trovano una successiva evoluzione anche nel campo civile. Una di queste è legata proprio agli elaboratori elettronici che sono messi in funzione da queste agenzie, da questi progetti che hanno una connessione militare, ma che hanno però sempre delle basi di ricerca nelle università è il sistema che è stato definito ARPANET che nasce nel 1969, quindi all'epoca non c'è il web, ci sono però dei meccanismi, quindi non c'è la rete mondiale, ci sono dei meccanismi, si decide un processo di trasferimento di dati fra centri di ricerca della East Coast e della West Coast proprio per da un lato mettere in comune le esperienze e dall'altra parte rendere meno vulnerabili questi centri di elaborazione. Se è possibile far circolare i dati all'interno di questa rete sarà meno possibile per un eventuale nemico esterno colpire uno di questi laboratori e quindi mettere in ginocchio poi tutto il sistema. La rete ARPANET che è quella che potremmo dire è l'inizio di questo percorso che poi porterà secondo gli storici di questo genere di tecnologie poi ad internet in una fase successiva è quindi anch'essa il frutto di investimenti che partono da progetti governativi si trasferiscono in università si trasferiscono nelle industrie prendono le forme degli spin-off cioè di questi progetti leggeri fra industria e università che poi producono brevetti e quindi poi si disseminano e l'origine è questa idea della rete come una forma di comunicazione di dati per rendere questi dati da un lato comuni e dall'altra parte per rendere meno o più protetta la conservazione dei dati medesimi proprio per proteggerla da eventuali attacchi esterni. Questa è la rete ARPANET e potremmo dire che è il primo antesignato. Adesso vediamo quali sono i passaggi decisivi di questo percorso digitale da un lato abbiamo i primi computer commerciali che vengono cominciano ad essere diciamo a parire sul mercato fra il 1975 e il 1976 l'epoca dei due grandi pionieri Gates e Jobs e questa è la stagione dei personal computer l'inizio della stagione dei personal computer che ha una sua fase e che poi ha però uno sviluppo limitato uno sviluppo limitato perché questi personal computer naturalmente stoccano poi dei dati ma non li comunicano cioè se non all'interno di reti molto limitate per comunicarli a livello internazionale quindi utilizzando le reti di comunicazione le grandi reti di comunicazione ci vuole qualcos'altro e questo qualcos'altro è il web 1989-91 sono questi gli anni in cui due ricercatori che peraltro non sono americani uno lavora al CERN di Ginevra che è Berners-Lee e l'altro è un francese che si chiama Keio cominciano a inventano di fatto la trasmissione dei dati attraverso delle linee di comunicazione quindi rompendo l'isolamento dei singoli computer e cominciano a circolare le parole che tutti noi conosciamo router browser server la formattazione sono tutte diciamo il lessico che accompagna ormai da 30 anni la nostra vita e comincia quindi l'unione fra la ricerca nei computer quindi la ricerca informatica e la comunicazione attraverso il web apre un enorme mercato sono gli anni quelli che vanno dal 1991 al 2000 all'anno dello sviluppo del mercato americano in particolare con un enorme incremento della quota di popolazione che è in possesso di un pc in america terzo della popolazione nella seconda metà del decennio ha già possiede un personal computer c'è una crescita impressionante delle quotazioni di tutte queste piccole imprese spesso piccole imprese che nascono nella Silicon Valley in California ma che poi si estendono ovunque nel paese che danno origine a straordinari profitti ci sono anche bolle speculative enormi questa bolla speculativa la bolla di internet scoppia fra il 2000 e il 2001 e segna una fase di nastasi perché una vera e propria crisi una delle prime grandi bolle del periodo che va dagli inizi degli anni 2000 ad anni molto più recenti questa è una fase molto delicata sembra che questa struttura di impresa sia in crisi che non possa rinascere c'è una grande moria di tantissime imprese medie e medio grandi che vengono falcidiate dall'esplosione della bolla speculativa tengo a precisare che non è un caso che questi siano anche gli anni della fine della guerra fredda dal punto di vista tecnologico i russi che sono stati all'avanguardia nei primi anni 60 nel momento in cui comincia tutta la rivoluzione dell'ICT non riescono a tenere il passo cioè quindi gli anni che vanno gli anni 80 soprattutto e gli anni primi anni 90 sono anni ormai segnati da un divario tecnologico incolmabile per cui diciamo anche dal punto di vista militare poi il trasferimento nonostante l'investimento in ricerca e sviluppo da parte dell'Unione Sovietica nelle tecnologie militari sia enorme non si riesce poi non si riesce poi ad arrivare a recuperare questo differenziale quindi lo scoppio della bolla di internet segna una fase di stasi e poi ecco la nuova la nuova grande fase che è quella da partire dal 1999 2000 della nascita del mercato degli smartphone che uniscono e questa è la prima volta che succede la telefonia e il sistema operativo per dispositivi mobili quindi sostanzialmente i sistemi operativi dei computer vengono miniaturizzati e collegati con i telefoni comincia Blackberry Nokia e poi nel 2007 Apple lancia l'iPhone che è l'inizio di una nuova grandissima stagione di espansione e che segna anche una trasformazione come vedremo della cultura di massa perché il dominio degli smartphone ha veramente cambiato il modo con cui le persone vivono il tempo come vedremo questo diventa poi un passaggio decisivo quindi volendo rapidamente ripassare noi abbiamo una prima fase in cui c'è la commercializzazione dei computer che si miniaturizzano ma non tanto sono sempre dei dispositivi piuttosto pesanti ma hanno un limite e cioè quello di non dialogare fra loro se non all'interno di reti limitate con il web si supera questo limite ma il dialogo avviene sempre fra macchine di una certa dimensione e tuttavia questo segna una fase di enorme crescita del mercato che porta a delle dinamiche speculative fortissime e a una crisi economica legata proprio alla bolla di internet quando internet sembra arrivato a un punto diciamo di non ritorno sembra che questa crisi segni una stasi in questa grande rivoluzione tecnologica si apre una nuova fase questa nuova fase è l'incontro fra due cose che fino all'ora erano rimaste separate il telefono che nel frattempo è diventato un telefono cellulare quindi si è diciamo è cambiato perché è trasportabile questo è un filone della telefonia la telefonia mobile che si è in qualche modo evoluto che è evoluto per conto proprio incontra la miniaturizzazione dei sistemi operativi dei computer si incontrano dentro lo smartphone e da lì in poi comincia un'altra stagione una stagione che ha una sua fase sperimentale e che poi diventa virale potremmo dire così quando con la Apple la Apple mette sul mercato lancia lancia l'iPhone nel 2007 ed allora ricomincia un'altra vicenda nella quale stiamo vivendo ancora tutt'oggi questi passaggi secondo me andavano vanno distinti per riuscire poi anche a comunicarli perché i nostri ragazzi ormai sono ragazzi di una generazione che per cui il rapporto fra il telefono e il computer è un rapporto non diviso ma è un rapporto unitario fin dalla loro più tenera età però noi tutti siamo diciamo quelli di una certa età perlomeno hanno vissuto proprio questa grande trasformazione tecnologica e questi processi di miniaturizzazione questo è molto importante perché già un grande storico dei beni materiali che si chiama Schivelbush ha messo in evidenza come la tecnologia che si connette al mercato dei beni tenda a miniaturizzare i prodotti quindi si passa da grandi e pesanti prodotti a prodotti sempre più portatili pensiamo alla linotype la macchina da scrivere il passaggio dalla linotype la macchina da scrivere privata pensiamo al passaggio dal telegrafo al telefono pensiamo al passaggio dal bus elettrico all'automobile quindi sono tutti processi di miniaturizzazione ecco anche le tecnologie digitali conoscono questo passaggio questo percorso di miniaturizzazione che oggi è arrivato a una a una fase di grandissima diffusione qui è una piccola linea del tempo che mette in evidenza tutti i passaggi cioè dagli esperimenti degli anni 60 con i grandi computer ricordo soltanto per chi è appassionato del genere al computer al 9000 di 2001 di Sennelo Spazio quella dimensione di grande computer che serve per progettare i viaggi interstellari ecco da lì passiamo al personal computer che è già un'enorme rivoluzione nel 75 76 poi all'uso di questi computer per anche giocare pensiamo al Commodore 64 che è un oggetto del desiderio della mia generazione e poi ancora andando avanti nel 91 l'arrivo del web e poi i passaggi successivi addirittura con Google le grandi le grandi piattaforme eccetera eccetera sono storie queste più più recenti e questa è la bolla di internet vedete la l'enorme salita dei titoli azionari che riguardano il tecnologico che oggi rappresenta ancora il cuore della economia americana l'economia delle più grandi società quotate degli Stati Uniti non solo a livello mondiale ormai anche cinesi hanno a che fare con le tecnologie dell'informazione qui però vedete questo grande lo scopio della bolla negli anni 2000 2001 che segna un brusco ritorno alla realtà e poi l'inizio di una fase ulteriore di ricostruzione potremmo dire così del mercato e questo è un altro su una scala del tempo c'è l'evoluzione del telefonino qui abbiamo proprio la visione visivamente che cos'erano questi la telefonia mobile che parte per conto proprio con degli oggetti molto ingombranti molto costosi e anche diciamo efficienti il giusto diciamo relativamente poco efficienti che poi si miniaturizzano si diventano sempre più piccolini ma rimangono sempre telefoni cellulari cioè che hanno a che fare con un mondo delle comunicazioni che è separato dal mondo dei sistemi operativi dei computer e poi invece quando arrivano quando arriva la diciamo la confluenza fra questi due oggetti eccoli qua vedete le generazioni dei telefoni più recenti che sono che hanno ormai inglobato questa componente che è ormai un pezzo della nostra vita quotidiana e questa è diciamo il tentativo di storicizzare questi percorsi quindi partendo dalla seconda guerra mondiale la corsa allo spazio i missili il tema dello spazio dello spazio come non soltanto un luogo nel quale passare con gli aeroplani ma che trasferisce degli impulsi trasferisce delle informazioni e trasferisce quindi anche del valore e quindi come questo poi si cali sulla terra torna sulla terra sotto forma di oggetti che prima sono controllati da grandi centri statali o anche da grandi imprese private e poi si miniaturizzano sempre più e diventano patrimonio collettivo bene collettivo e oggi costituiscono un pezzo della nostra vita adesso però a questo punto volevo porre un ordine diverso delle questioni perché guarda caso tutto questo processo di cui abbiamo parlato coincide con quello che alcuni storici pensano in particolare a François Arthog ma non solo hanno chiamato l'età della presentificazione cioè un'epoca che possiamo grossomodo datare appunto da far cominciare dagli anni fine anni settanta anni ottanta nel corso della quale l'esperienza di vita grazie ai dispositivi digitali portatili viene schiacciata sulla comunicazione immediata le persone comunicano in tempo reale quelle che sono le proprie sensazioni le proprie emozioni quindi in un certo senso come dire si viene interrotto un percorso che una volta era assolutamente normale quello fra i momenti in cui si prova un sentimento o una sensazione e il momento in cui la si restituisce ad altri questo percorso che pone un intervallo temporale fra il provare una cosa e il raccontare questa cosa il riflettere su questa cosa beh questo fa perdere naturalmente senso prospettico alla vita la vita è fatta di prospettive che mettono insieme il passato il presente il futuro questo sta nella nostra esperienza di essere umani e non è comprimibile noi possiamo pensare di comprimerla possiamo vivere come se esistesse non esistesse ma il passato il presente il futuro esistono esistono e ci vivono se noi ne prendiamo atto possiamo cercare di come dire controllare questa dimensione spazio-temporale che costituisce la nostra storicità potremmo dire così se invece non la controlliamo e accettiamo l'idea che questa vita sia una vita totalmente in presa diretta cioè dove non c'è riflessione prospettica abbiamo dei rischi alcuni rischi sono l'oblio del passato relativamente si potrebbe dire relativamente poco importante il passato è passato ma il problema fondamentale è che al passato è connesso il futuro cioè molto spesso anzi le generazioni prima delle nostre si sono basate su ciò che avveniva nel recente passato a loro stesse o a quelle o alle generazioni precedenti per immaginare se poi in un futuro se il presente assorbe come un buco nero tutta l'esperienza di vita il cui e ora ha un diciamo un senso assolutamente preponderante e quindi non ci consente anche di immaginare un futuro per noi tutti qual è il nostro futuro quando finisce questo nostro futuro se il presente lo assorbe ecco perché la presentificazione rende molto complicata la comprensione del tempo storico e quindi a noi storici comporta per noi storici è un grave problema la presentificazione e poi perché la trasmissione intergenerazionale delle esperienze non solo dei beni ma anche delle esperienze non è più così centrale ognuno pensa di poter di poter vivere esperienze che sono totalmente nuove non hanno comparazione fondamentalmente la storia è anche un modo di soprattutto di contestualizzare la storia non è che insegni qualcosa di particolare però consente di leggere i contesti leggere i contesti è fondamentale per vivere per ciascuno di noi per sopravvivere per mettersi al riparo da pericoli per riuscire ad avere relazioni giuste con le altre persone equilibrate quindi il contesto è assolutamente il dato centrale della storicità ebbene se questo contesto viene ristretto a una trasmissione di dati in presa diretta evidentemente noi rischiamo di non capire banalmente quello che ci succede intorno anche nella nostra vita di comunità per esempio e questo è il professore Tog che è stato direttore di studi all'Ecole des Autitudes d'Ancienso Sociale a Parigi lo chiama chiama queste modalità di percepire il passato come regimi di storicità cioè ci sono dei periodi in cui si definiscono dei modi di concepire il passato ce ne sono stati altri nel corso della storia naturalmente la storia recente contemporanea cambia la percezione della storicità perché la inserisce all'interno di una idea di progresso che prima non era resistita naturalmente quindi la cambia una volta e poi il cambiamento si vede ancora oggi con la presentificazione ecco questo è per dire che la connessione fra una lezione sul digitale e la presentificazione ha senso quindi volevo mettere in evidenza anche questo dato per consentire anche a voi insegnanti di fare questi passaggi cioè si può parlare di questi temi parlando della seconda guerra mondiale parlando del periodo dopo guerra della tecnologia ma anche per parlare della nostra condizione umana e della condizione umana soprattutto dei nostri ragazzi che questa presentificazione la vivono come la loro storicità il loro regime di storicità e che quindi vanno compresi e quindi vanno compresi ma bisogna aiutarli anche a rendersi conto di questo fenomeno perché questa è forse una delle grandi funzioni educative della nostra della nostra scuola quella di consentire ai nostri allievi di avere contezza di quello che accade dentro di loro intorno a loro e penso che questo sia forse un modo giusto per approcciare una questione così apparentemente complicata molte grazie a tutti voi ringrazio molto il professor Balzani perché in questa breve schiacciato periodo temporale con la sua con la sua lezione ci ha dato un'idea invece di quanti passaggi per l'appunto rubricabili sotto comunque un concetto sia pure particolare ma un concetto di rivoluzione quanti 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 passaggi sono contenuti quindi è come se tu ci avessi dispiegato per così dire tu ci avessi dispiegato diciamo una cosa compatta io vorrei farti una domanda proprio a partire dall'ultimo punto che non sapevo avresti toccato ma sul tema della presentificazione perché a noi è capitato più volte anche peraltro ragionando sul manuale su come farlo ma qui parliamo di un'altra cosa abbiamo parlato più volte di per i giovani di oggi di interruzione per così dire di una catena narrativa che è anche una catena di una catena di narrazione del passato che è anche una catena di comprensione ma non solo del passato del presente questo è il punto e oramai ricordo nel mio mestiere diciamo nell'editoria scolastica quando ormai anni fa i facenti ci parlavano delle difficoltà che avevano a che fare con i nativi digitali dico anni fa perché ormai ci sono diverse già generazioni di studenti nati nati diciamo come nativi digitali quindi concretamente Roberto come potresti presentare tu diciamo come potresti dare una profondità storica un senso storico delle trasformazioni che hai velocemente trascritto adesso a dei ragazzi per i quali la condizione digitale è appunto l'aria che respirano non immaginando che ce ne sia un'altra ricorda la storiella dei tre pesci di David Foster Wallace quando i due pesci giovani incontrano il vecchio che dice salve ragazzi come calda l'acqua oggi e poi quando se n'è andato via loro si guardano e dicono che cos'è l'acqua certo beh diciamo che noi abbiamo assistito alla fase io mi ricordo quella dei nativi digitali soprattutto perché erano la generazione che ancora non era quella degli smartphone erano soprattutto quelli che facevano che usavano i game boy cioè che usavano i giochi digitali che è stata la grande che è stata la grande forma di avvicinamento e di alfabetizzazione al digitale è stata attraverso la gamification questa è stata la grande stagione poi dopo nel momento in cui è arrivata la telefonia diciamo questo addirittura diciamo ha cambiato ulteriormente il passaggio ma già quella era una stagione assolutamente diversa per chi come la mia generazione non aveva partecipato era nata in un'epoca diciamo non analogica non digitale ecco aveva sviluppato la propria formazione in un'epoca analogica ecco io ai ragazzi di oggi quello che fare esercizi su questo argomento è sempre diciamo piuttosto difficile naturalmente una una riflessione che io cerco di fare loro è quella di di riprendere a distanza di anche poche settimane questo quando parliamo di cose contemporanee di eventi relativamente recenti quello che è stato scritto diciamo quello che vi siete passati che avete letto su internet sui 15 giorni fa 20 giorni fa di un argomento un mese fa e riflettere su quanto di quello è rimasto nella diciamo nella loro vita no quanto di quelle cose sono sopravvissute la stragrande maggioranza di tutte queste informazioni sono finite ovviamente nel pattume della storia doveva finire quasi tutto per la verità e quindi di conseguenza rendere diciamo in qualche modo riuscire a far passare l'idea che questa immensa quantità di trasferimenti di diciamo di racconto di comunicazione ha un significato sociale ma non ha un significato di conoscenza mi sembra un elemento molto importante cioè separare quello che riconoscere che è una cosa inevitabile che per la loro generazione questa la socialità che si esprime attraverso il l'uso dei dispositivi digitali di dispositivi portatili è inevitabile nessuno pensa di toccarla però far loro riflettere sul fatto che si tratta che loro prevalentemente questi ragazzi la usano non per potenziare delle finalità di conoscenza e sotto questo profilo quello altro che cerco di fare è di far loro usare questi dispositivi anche per acquisire informazioni perché come sappiamo il potenziale è enorme e soprattutto pensando a quella che è stata la generazione mia e del dottor Amerini per la quale consultare e leggere giornali stranieri non era una cosa banale all'epoca non era facile negli anni 80 primi anni 80 informarsi su quello che dicevano nel mondo questo era complicatissimo in tempo reale oggi si può fare ma una gran parte dei nostri ragazzi non lo fa cioè non lo usa questo potenziale ecco questo è un è un modo secondo me utile per avvicinarli a una idea di conoscenza a questo punto non di scambio di di comunicazione sociale che ripeto è importante è ineliminabile ma che non deve essere scambiata per appunto per una crescita ecco non necessariamente lo è gli stacchi generazionali a volte possono avere dei simboli te ne propongo uno piccolo che mi è venuto in mente ascoltando mentre tu stavi presentando io ricordo ce l'ho ancora qui a casa da qualche parte un libro credo sia del 1995 di salsa intitolato che cosa ci faccio in internet libro che poi è stato preso come un manifesto come dire di questa generazione ma allora io ricordo che l'avevo letto credo già possedevo un piccolo un piccolo computer personal computer ma proprio con l'idea beh effettivamente che cosa posso fare domanda davvero buffa diciamo riportata riportata i tempi nostri però ti volevo chiedere un'altra cosa ritornando alla prima parte della tua relazione allo spazio lo spazio è ormai o forse lo è sempre stato un luogo militarizzato forse lo è sempre stato nel senso che così come per gli armamenti di guerra convenzionale bisogna riconoscere che anche la corsa allo spazio ha avuto degli input tecnologici degli investimenti che sono stati originariamente generati anche quantomeno al di là degli slanci diciamo kennediani che ricordate la tua diapositiva anche da ragioni militari io ho l'impressione che questa cosa la sappiamo tutti ma non ne teniamo adeguatamente conto non ci rendiamo conto di quanto sia questo nelle missioni spaziali distinguiamo quelle scientifiche e quelle militari se andiamo a vedere bene non è sempre ci sono quelle solo militari ma di solito non ci sono quelle solo scientifiche adesso non so che fine farà con la guerra la stazione spaziale internazionale quindi la domanda è che cosa secondo te si può prevedere su questo nell'immediato futuro o ancora più nel presente noi non sappiamo per esempio esattamente come funziona il controllo dello spazio in questi giorni nella guerra in Ucraina ci sono satelliti c'è una satelliti militari americani che passano in formazione agli ucraini ci sono satelliti che si abbattono a vicenda usi americani nello spazio in realtà di questo non sappiamo quasi nulla si di questo non sappiamo quasi nulla e probabilmente non sapremo nulla per molto tempo finché non si apriranno gli archivi cosa che succederà probabilmente fra una generazione direi come è tipico quindi ci sarà qualche storico fra 20-30 anni che finalmente accedendo agli archivi riuscirà a capire qualcosa in più di quello che stiamo vivendo certo l'elemento tecnologico è l'elemento militare la trasformazione tecnologica sotto impulso militare c'è sempre stata io mi ricordo quando facevo l'università europea queste lezioni di questi professori americani che addirittura mettevano in connessione l'origine dell'intercambiabilità dei pezzi che è all'origine della catena di montaggio come concezione dell'inizio del novecento con l'esigenza che incominciarono a percepire gli Stati Uniti dopo la guerra civile americana di costruire armi con pezzi intercambiabili per non distruggere un enorme patrimonio costoso patrimonio di armi che durante le battaglie venivano parzialmente distrutte quindi si potevano recuperare rimontandole fondamentalmente questo per dire come stiamo parlando di cose che hanno un'origine davvero remota e quindi in questo senso credo che questo non ci abbia mai abbandonato nel senso che tutto il ventesimo secolo è un secolo di investimento in tecnologia militare che poi ha un quasi immediato trasferimento nel civile ecco perché è lì che gli Stati normalmente sentono il bisogno di mettere più soldi proprio per il controllo del territorio il controllo fisico dello spazio ecco quello che secondo me questa guerra probabilmente segnalerà è forse degli indirizzi di investimento futuro su delle tecnologie che sono diverse dalle attuali per esempio l'utilizzo dei tank dei carri armati sembra qualcosa di molto di remoto ormai di qualcosa che non sta più dentro diciamo la logica di una guerra contemporanea per esempio nel senso che sono degli strumenti molto vulnerabili e costosi perché un tank russo costa a secondo del modello dai 3 ai 4 milioni di dollari e quindi una cifra enorme se noi pensiamo a quanti ne abbiamo visti rotti e bruciati durante queste immagini un aeroplano militare di ultima generazione costa fra gli 80 e i 100 milioni di dollari e quindi di conseguenza evidentemente questo diciamo provocherà una ridislocazione delle risorse probabilmente verso i droni forse sì perché no probabilmente sono armi più considerate più diciamo maneggevoli e meno costose tutto sommato anche in termini di vita umana per chi naturalmente offende non per gli altri che prendono i missili naturalmente e chissà quali altre cose però non c'è dubbio per esempio che la tecnologia dei droni che oggi vediamo anch'essa diffusa in tutto la nostra vita quotidiana anche solo per le riprese cinematografiche per fare i rilievi delle abitazioni o dei paesaggi sia una tecnologia militare questo è c'è poco da dire insomma e sarà perfezionata in questo senso il che non significa diciamo non do un giudizio di valore naturalmente soltanto una una costatazione devo facciare soltanto questa questa piccola chiosa io ho avuto nella vita un'esperienza durissima che mi ha fatto capire quanto fosse importante internet nel 1997 ho avuto mio figlio che è nato con una grave rarissima malformazione e io e mia moglie eravamo naturalmente disperati e apparentemente non trovavamo degli interlocutori che ci dicessero che cosa dove poter portare questo bambino e naturalmente per dei limiti dovuti al circuito informativo nel posto dove eravamo dove vivevamo e abbiamo fatto utilizzato internet per interrogare una società di genitori americana che aveva lo stesso problema che avevamo noi e attraverso questa associazione americana siamo riusciti a trovare gli italiani medici italiani che in realtà si occupavano di questa malformazione ma che noi non conoscevamo e li abbiamo interpellati e nostro figlio si è salvato quindi devo dire che l'uso del web per conoscenza è di gran lunga una delle più grandi risorse che abbiamo però dobbiamo usarlo questo volevo dire perché a me è capitato e devo dire che senza di quello forse la vita di mio figlio sarebbe stata molto diversa faccio fatica a farti una domanda dopo questa cosa che però si è conclusa diciamo si è conclusa bene ma se hai ancora un minuto ti faccio ti faccio un'ultima domanda è stata hai nominato quella che tutti noi almeno quelli che partecipano qui a questo webinar immagino per età ricordiamo come la bolla speculativa diciamo legata a internet legata a sopravvalutazioni diciamo di valore societario su riguardo a società che si occupavano di beni materiali ma anche prevalentemente immateriali perché c'erano i portali ecco possiamo dire che da questo punto di vista rispetto alle tematiche e alla tecnologia digitali che hai descritto l'economia è tornata in questi ultimi anni a diventare più materiale per così dire ad occuparsi di beni materiali ma io penso che non lo sia nel senso che se guardiamo se guardiamo quelli che sono le società più capitalizzate rimane ancora l'elemento immateriale come l'elemento assolutamente dominante ma anche naturalmente a livello internazionale non solo americano quindi su questo non direi di no però sicuramente quello che ritorna è il il controllo delle materie prime e il controllo delle reti logistiche questo è un elemento che le crisi più recenti anche quelle legate per esempio alla pandemia hanno reso evidente per cui sicuramente rispetto all'illusione di un trasferimento totale dell'economia di una dematerializzazione dell'economia probabilmente ci andiamo verso una una vicenda più equilibrata ecco dove alcuni elementi fisici ritornano ad avere una loro inevitabile centralità ma questo credo che sia giusto perché in fondo noi viviamo di cose materiali siamo di carne di sangue di acqua siamo fatti di cose molto concrete e in questo mondo totalmente virtuale non possiamo pensare di vivere esclusivamente ecco quindi è chiaro che questi aspetti ci sono ancora direi materie prime logistica in particolare va bene io ringrazio molto il professor Balzani chiedo al regista se ci tiene qui non è una domanda questa se ci tiene tutti a due nello schermo ringrazio molto per questa per questa relazione così stimolante che appunto ha dato una profondità storica non non scontata e non banale anche per noi che ce l'abbiamo ma che che l'abbiamo vissuto ma soprattutto in relazione all'esperienza delle studentesse degli studenti nelle scuole e chiudiamo quindi Roberto qui questo ciclo iniziato a novembre grazie della tua disponibilità sai quanti consensi ha raccolto e speriamo di aver fatto cosa anche utile diciamo anche in prospettiva scolastica per tutti coloro che ci hanno seguito grazie ancora grazie a tutti coloro che hanno partecipato buona serata grazie 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 grazie